Alta formazione, 7 milioni per specializzazioni in aree medico-sanitarie e dottorati. L'assassonato all'istituzione della formazione professionale stanzia 7 milioni di euro per sostenere la competitività dei giovani attraverso il potenziamento dell'alta formazione. In particolare, 4 milioni di euro sono destinati ai contratti di specializzazione di aree medico-sanitarie e 3 milioni ai dottorati di ricerca. Il governo musulmanici continua a puntare sui giovani e sulle loro competenze, spiega l'assessore regionale all'istituzione Roberto Lagalla, investendo sull'alta formazione affinché possano avere maggiori opportunità occupazionali. Una iniziativa a sostegno del sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza con una particolare attenzione all'alta formazione in ambito sanitario e alla ricerca universitaria perché investire sull'innovazione resta in ogni caso una priorità. Attraverso il finanziamento di 36 contratti di formazione specialistica della scuola di specializzazione nell'area medico-sanitaria degli Atenei siciliani, che si aggiunge a quello ministeriale, la Regione rafforza l'opportunità di accesso ai corsi, migliora l'efficacia dell'istituzione terziaria e soprattutto promuove il rafforzamento dell'offerta di figure specialistiche di alto profilo in campo medico-sanitario di particolare importanza, soprattutto alla luce del necessario incremento dei servizi sanitari per l'emergenza Covid-19. In particolare le borse aggiuntive andranno a coprire il fabbisogno individuato dall'assessorato regionale della salute e condiviso con l'osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica che individua fra le specializzazioni maggiormente richieste, quelle in malattie dell'apparato cardiovascolare e medicina dell'emergenza urgenza, seguita da quelle in malattie dell'apparato respiratorio, in ortopedia e traumatologia.